Sì, sento. Prima, col cellulare non mi sentivi a me. Io ti sentivo che chiamavi. Ti ho sentito che chiamavi. Ma è uscito, perché mi hai chiamato in legna. Ma mi hai detto, ma ci riproviamo a chiamare. Perché a noi ci va sempre che se il telefono spendo. Eh. Eh? No. Ma papà? Eh, perché papà ti voleva dire. Ti voleva dire come dove gli fa per alzare il volume. Ciao. 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 Grazie a tutti.